Michel che spara Oh ma non ce ne spara qualcuno Michel è la Wii Guardate Allora tu metti un video in Youtube Stavolta da denuncio Stavolta da denuncio la vera Michel ma sono E che ti ha fatto 5 mila punti 6 mila e 2 ancora Marco quant'è Michel? 1280 Maria vergogna 7 secondi Qua 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 Vergogna Guardate 1100 guardate a Marco Prossimo Wii Zapper